e ciao a tutti ragazzi miei sono io il vostro elettro il 16 oggi siamo qui in un video comunque buon halloween buono tutto perché non lo so se questo video uscirà da halloween però buono tutto comunque buon halloween buon natale buonanotte buono tutto siamo qui ragazzi di nuovo per troppo tempo perché si me l'hanno detto dalla regia siamo qua sulla minecraft scp perché se me lo dicono ogni santo giorno allora ragazzi oggi andremo a vedere non il 999 ma un nuovo scp che non ho la più che minima vaga idea di cosa si tratta ce ne sono un po' che non abbiamo visto che abbiamo visto cioè questo video è fatto mentre tra il tempo di halloween però il video su un scp di halloween diciamo che l'abbiamo già anticipato ecco quindi andiamo direttamente dal nostro non brachiosauro ma dal nostro scp di oggi che è un po' strano un po' mistico tra l'altro sto coso sto povero cristo qualcuno lo voleva rinchiudere ma siete dei monellaci ma poveraccio perché deve essere rinchiuso sto brachiosauro lui è libero di fare i cazzi suoi se lui vuole stare qua e girare girasse non me ne frega un cazzo ci sono un sacco di celle raga ma la cella dell'scp di oggi è strana perché è questa qua questa qua ed è attorno a 1 2 e 3 cavalli scheletri questa cella qui tra l'altro qui no qua c'è la cella del 1200 1027 si il 1027 e qui c'è una nuova cella che ha spaccato bobo ha sfondato qua non è la cella dell'scp di oggi qua ci sono gli scaffali questa raga era la cella del 1027 se non sbaglio senza giusto si era il 1027 raga scp che abbiamo anche già visto boh raga è un po' bizzarra come cella io direi però che ho perso un po' di tempo qua io voglio fare un po' cose veloci quindi andiamo subito subito a vedere questa cella qui e mettiamo due torce una qua e una qua comunque rimarrà un mistero come qua ci si non ho uno non due ma tre il terzo se ne è andato cavalli scheletri chissà perché vabbè nel fondo vado su due caverne va bene va bene io devo avere paura intanto mangio una pizza e ci buttiamo e c'è l'acido acido quello la che funziona fino a un certo punto l'acido che fa schifo non so se sto co... no questo è il... ah no questo acido non è quello che distrugge va bene ok questa mi pare essere la cella delle farfalle di cristallo se non sbaglio vediamo un po' chiedono la level one si raga la cella delle farfalle di cristallo va bene quindi qua ecco qua c'è tutta la maradam su o i pezzi di carta le batterie la chiave di livello 2 la prendiamo e i pezzi di carta va bene qui chiedono a level 3 e qua dentro c'è l'SCP però non trovo il cartello che mi dica qual è beh forse sarà da questa parte vediamo un po' quale level 2 posso usare anche questa chiave per aprire questa porta qui abbiamo un pezzo di carta un altro pezzo di carta una batteria che male non fa un libro che anche questo male non fa pezzo di carta, carta, pezzo di carta e qui infine un pezzo di carta ok vediamo un po' che SCP è ho visto un pipistrello che è quello schifo no ma che è sembra 999 però è tipo bruttissimo mi leggo il nome e ok SCP 597 non è sicuro che questo lo conosco è sicuro non lo conosco non ho la benché minima idea qua leggo che si chiama the mother of them hull che in italiano significa la madre di tutte le cose hull significa tutto them di tutte le cose ne ho sentito un po' parlare però non lo so non ho la non so cosa si è tratti penso allora io ho un po' visto cose su sto coso è un po' è brutto ragazzi nella vita reale non dovrebbe muoversi eh no ragazzi non si muove giusto mi ricordavo bene non si muoveva però sto pipistrello dà un po' il cazzo muori olè è morto mi ha dato la pelliccia di pipistrello questo coso qua questo SCP dovrebbe essere un organismo di un sacco di corpi persone in alcune immagini ci sono immagini molto compromettenti dove viene cioè praticamente sto coso è fatto da parti intime del corpo femminili superiori se avete capito bene è un po' bruttarello sto tizio qua sto bastiano qua abbiamo messo il portale tra l'altro si è messo male adesso si è messo bene io qua posso andare a mettere il suo token non c'aveva il label sto coso qui intanto vado ad appoggiare gli altri oggetti qua i pezzi di carta inutili ritorniamo andiamo a vedere un po' da quel che so raga questo SCP visto che è fatto di parti intime il chiameremo Giuseppe questa parte non ben specificata che non vi spiegherò questo SCP dovrebbe costringerti ad avvicinarsi al tuo interno e a succhiare scusate non riesco a non essere serio con sto schifo il la pa- Giuseppe succhiare Giuseppe e quando lo fai tu credi che sto coso sia tua madre raga è bruttissimo sto SCP ma tanto che tra l'altro sto coso c'ha 597 di vita e l'SCP 597 ha 597 HP di vita coincidenze io non credo io non mi avvicino fin troppo provo a colpirlo lo posso colpire non lo posso colpire raga raga non lo posso colpire raga lo posso colpire con questo no raga non si colpisce non lo posso per quanto ci abbia 597 di vita sto schifo non si muove o sono io che laggo non laggo raga non laggo proprio non si può toccare ma io lo posso trascinare lo posso trascinare lo posso trascinare sto coso sto schifo sto ammasso di Giuseppe ok l'ho lasciato però raga noi dobbiamo provarlo sto coso quindi io mi avvicinerò e succhierò Giuseppe vabbè dai ok aia mi ha scritto io are staring to think SCP 5 is your mother and is you to leave ho avuto dei brutti effetti che effetti ho avuto fame veleno fame you are staying to fin che SCP 5 97 you are seeing and resume to leave porco e sono morto non ho capito raga un beneamato cabbo di sto coso sto SCP rientriamo ok sono rientrato spacco qua la porta tanto non serve che la piazzo perché a quanto pare sto coso non fa niente cioè non si muove non che non fa niente è incorporeo e non ho ben capito cioè sto coso mi costringe già starli vicino your mother cioè ti fa credere che SCP 597 sia tua madre e e ti rifiuti di andartene no tu hai iniziato a credere che ah ho capito raga significa tipo tu hai iniziato a credere che SCP 597 sto schifo sia tua madre e ti rifiuti di andartene è bruttissimo che tra l'altro più stai e più sto coso ti ammazza raga è brutto sto coso ma non tanto perché ok quello che fa anche quello che fa ma tanto perché questo raga è un sacco di organi parti intime corporee raga è uno schifo sto coso non so non si può attaccare io direi facciamo una cosa a parte che io mi voglio dissociare ed è quello che faremo ragazzi io mi dissocierò da tutto dalla creazione dalla concepizione di questo video e dai termini tecnici usatevi e proporrei che a parte che ho perso le batterie mi sembra o sono qua dentro ah no erano dentro di lui che cosa brutta e ragazzi niente io proporrei direi che postremmo concludere qua questo video con questo orribile scp mi spiace cioè tra tutti i 100 scp proprio questo orribile ringraziate che però non era il 166 che ancora non l'abbiamo visto ma quello quella è una signora che vabbè non continuo non commento sto coso me lo devo anche portare al laboratorio pensa te ma 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 vaffangura te che ti ha fatto e frate te pure ma quanto sei ignorante insensibile arrogante ma vatti a ricoverare scp 597 vai a ricoverare vai a farti ricoverare 597 che brutto che è non lo posso nemmeno colpire e niente ragazzi io vi direi che per questo video può essere tutto lasciate un bel like o un dislike ma tanto è inutile perché non li vede youtube iscrivervi è da me eltro 16 è tutto ciao